la segna stampa di oggi 3 aprile 2018 questa è la seconda edizione cari amici vi ricordo che la rassegna stampa edita da rs t6 us e pianeta oggi tv dj faubo il governo si è costituito davanti alla consulta associazione coscione dice stato difende reato liberticida del 1930 per i giudici milanesi l'espenonte non ha rafforzato il proposito suicidario e la parte della norma che punisce l'agevolazione al suicidio senza influenza sulla volontà dell'altra persona è costituzionalmente illegittima governo martina dice con il movimento 5 stelle difficile con salvini è impossibile sposetti dice nessun metodo solo amichetti di renzi il reggente del pd ha detto che sui temi come i dazi o sull'europa ci sono differenze e lo stesso movimento mi pare non voglia un esecutivo con noi l'ex tesoriere di esseri c'è nel partito non c'è né strategia né tattica l'ex segretario ripete solo stare all'opposizione ma non è un ragionamento la renziana qualmini ha detto dialogo non è tabù siamo lago della bilancia debito pubblico salvataggio banche veneto lo fa salire di 11,2 miliardi a marzo gentiloni gentiloni dice esultava dicendo che cala cala mercoledì istat rivedrà i suoi calcoli di conseguenza alla luce dei nuovi dati la riduzione del debito pilla vantata dal premier uscente non c'è più quindi dal 132 per cento del 2016 si passa al 132,1 per cento forse italia la consigliera sardone fuori dalla giunta lombarda dice partito scavo dei portigiani di arcole in sua difesa toti la consigliera ha raccolto 11 mila preferenze ma è stata esclusa dalla giunta regionale scoprendolo solo quando tutto era già ufficiale schiaffo alla meritocrazia nessuna motivazione dice la difende giovanni toti una delle voci critiche in questo momento è dialogante con salvini difficile dire cosa sia il merito se si esclude una come lei ha detto pedofilo recidivo tribunale di milano dispone un ciclo di cure perché in carcere perché il carcere non ha prodotto effetto rieducativo il collegio preseduto da fabio roia dando anche atto del consenso manifestato dall'uomo rinchiuso nel carcere di pavia li ha ordinato di contattare immediatamente il cpm centro italiano per la promozione della mediazione del criminologo paolo giulini per un programma clinico terapeutico scusate bene con questo è tutto vi diamo appuntamento alla prossima la segna stampa buon proseguimento con i nostri programmi e vi ricordo che la segna stampa edita da rsd saius e pianeta oggi tv grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti